La Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna all'ergastolo per Danny Pruscino e ha ridotto da 25 a 18 anni la pena inflitta in primo grado a sua moglie Katia Reginella, la coppia di Folignano in provincia di Ascoli Piceno accusata di aver ucciso volontariamente il figlioletto di due mesi Jason scomparso nel luglio del 2011. Secondo la procura di Ascoli a uccidere materialmente il bambino sarebbe stato Danny, padre adottivo del neonato, frutto di un'altra relazione di Katia. Con il concorso della donna l'uomo avrebbe poi occultato il cadavere che non è stato mai ritrovato. La sentenza di primo grado era stata emessa il 18 giugno dello scorso anno dalla Corte d'Assise di Macerata dopo due anni di indagini e un continuo rimpallo di accuse fra i due coniugi. Per la Reginella la Corte d'Appello ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e le ha diminuito la pena di un terzo. I giudici hanno poi escluso l'aggravante di futili motivi per Pruscino ma senza modificare gli anni di carcere che l'uomo sconterà in isolamento diurno. Grazie per la visione! Grazie a tutti.